La stagione estiva si avvicina e con essa torneranno a proliferare insetti e zanzare. Ed ecco che arriva dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento il monito a tutti i sindaci di tutto il territorio provinciale ad attivare le iniziative connesse al buon esito di un'efficace azione di disinfestazione e deratizzazione. I cicli biologici di sviluppo di microorganismi patogeni non sono minimamente influenzati dai tempi della burocrazia delle amministrazioni. La lotta alle zanzare ad esempio risulta efficace solo se viene assicurata un'azione larvicida da effettuare entro il mese di aprile seguito da un intervento sullo stato adulto. E quanto si legge nella nota del 7 marzo scorso con cui il Dipartimento di Prevenzione dell'Aspe di Agrigento sollecita tutti i sindaci di tutto il territorio provinciale ad attivare le iniziative connesse al buon esito di un'efficace azione di disinfestazione e deratizzazione. Per essere realmente efficaci specie nei confronti delle temutissime zanzare tigre e delle Aedes aegypti, veicolo del virus Zika, gli interventi vanno posti in essere da subito al fine di contrastare la proliferazione delle larve e degli insetti e non vanificare l'utilità dei successivi cicli. La deratizzazione, si legge nella nota, dovrebbe essere accompagnata da un serio intervento di pulizia delle aree libere e degli spazi confinati al fine di evitare un incremento di malattie trasmesse da insetti e roditori. L'attività di prevenzione è attuata nei tempi previsti dalle conoscenze scientifiche e la sola arma efficace contro malattie come riccheziosi e lesmaniosi che tanto preoccupano l'opinione pubblica. Il Dipartimento mette a disposizione la propria competenza e professionalità per collaborare nell'azione ed offrire ogni consulenza.